Fiera millenaria, incontri, convegni, zootecnia, mostre ma anche fiera campionaria, una tradizione quella di essere a Gonzaga che va avanti da anni. Ecco allora che saranno presenti anche quest'anno moltissimi espositori. Quali sono i numeri di questa edizione 2016? Questa edizione porterà circa 460 espositori, espositori che vengono un po' da tutta Italia, in particolare in Lombardia. Alcuni di questi sono storici oramai per la millenaria perché sono in presenza da millenaria da oltre 40 anni. Alcuni di questi vengono dal comparto della zootecnia, altri vengono dal comparto della meccanizzazione agricola, soprattutto poi campionaria intesa a casa, arredamento. A completare il tutto la parte più ludica dedicata ai ragazzi con il Luna Park e tutta la parte dedicata alla ristorazione con bettole, bar e ristoranti e la parte di street food. Un settore importantissimo per la fiera. Tenete conto che la millenaria sviluppa un fatturato complessivo di circa 2 milioni di euro e ha una ricaduta sul territorio di almeno 5-6 volte. Sono dati portati all'attenzione dell'AEFI, che è l'associazione ente fieristici italiani. Questo vuol dire che la ricaduta sul territorio è importante e tutto questo viene grazie agli espositori. Fiera millenaria quest'anno partirà il 3 settembre e si concluderà l'11. Novità anche sul fronte dei biglietti d'ingresso. È stato differenziato il biglietto d'ingresso, i due fini di settimana saranno a 8 euro, mentre invece durante la settimana il biglietto è a 6 euro. L'abbonamento è possibile farlo anche questo per tutta la settimana, sono 20 euro e ha diritto a 10 ingressi.